Pole position per Valentino Rossi davanti a Jorge Lorenzo e Marc Marquez, quarto tempo per Andrea Dovizioso, davvero bravo con una Ducati in difficoltà qui a Erez, solo undicesimo Andrea Iannone invece molto in difficoltà. E' stata una bella pole quella di Valentino Rossi, ricca di significati, intanto perché a pochi secondi dalla fine, dalla bandiera a scacchi, davanti a tutti c'erano Lorenzo e Marquez, Rossi è stato capace di batterli a Erez a casa loro davanti al loro pubblico, ecco quindi che acquista un bel significato questa pole, anche psicologico. E poi anche i numeri confermano l'importanza di questa pole position, Valentino Rossi non partiva in pole dall'anno scorso, da Assen 2015, non partiva in pole soprattutto a Erez dal 2005, questo è un dato molto significativo secondo me, vuol dire che Valentino Rossi in questi 11 anni ha sofferto su questa pista, ha sofferto particolarmente con le gomme Bridgerton in qualifica, invece con le miscele in qualifica Valentino Rossi sembra decisamente più efficace dell'anno scorso, tre prime file su quattro gran premi sono la migliore conferma. Ma il candidato principale alla vittoria sembra essere Orghe Lorenzo, Orghe Lorenzo ha un passo irresistibile soprattutto nei primi giri quando le gomme sono nuove, Orghe Lorenzo quindi tenterà di scappare, questa sarà la chiave, i primi giri saranno la chiave, la partenza e i primi giri. Se Orghe Lorenzo riuscirà effettivamente ad andare in testa e a prendere un po' di vantaggio, allora potrebbe essere difficile prenderlo, potrebbe però, non è sicuro, perché quest'anno con le miscele purtroppo si parla tanto di gomme, ma è così, le gomme saranno decisive anche nella gara di domani, soprattutto se dovesse fare molto più caldo come è previsto dal meteo. Allora ci saranno tanti problemi a controllare il pattinamento della gomma posteriore, è così per tutti, per tutte le moto, la Yamaha in questo senso è più gentile con le gomme, ma sia Lorenzo sia Rossi avranno dei problemi a controllare il pattinamento nella seconda metà della gara. Ecco quindi che l'eventuale fuga di Lorenzo potrebbe non essere decisiva. Marquez III sembra attaccato a un filo, lui la velocità ce l'ha, ma fa tanti sbagli, li fa la prima curva, li fa la curva numero 6, tanti piccoli lunghi, fino adesso è riuscito a controllarli, però i suoi giri, se si guarda il cronologico, non sono costanti. C'è molta differenza rispetto alla Yamaha, a mio modo di vedere non può ottenere il passo dei due piloti Yamaha. Un altro elemento chiave potrebbe essere Dovizioso, Dovizioso scatta dalla quarta posizione e se in partenza lui che è così rapido con la Ducati, grazie al supermotore della Ducati al Via, se lui in partenza riuscirà a inserirsi tra uno dei tre piloti della prima fila, allora potrebbe essere decisivo anche per l'esito della gara. Dovizioso non ha il passo per giocarsela con i primi tre, però ha fatto decisamente un salto in avanti rispetto a ieri. Dovizioso è stato molto molto bravo a controllare una moto che sembra particolarmente difficile, come confermano le difficoltà di Andrea Iannone, un dicesimo molto staccato e anche nel passo poco costante. Non sembrano esserci altri piloti in grado di inserirsi al vertice, Vignales con la Suzuki è quinto davanti ad Alex Spargaro, sesto, bravo Alex Spargaro è in crescita, però se si vanno a vedere i tempi le Suzuki non sembrano costanti come lo sono i primi tre naturalmente, ma anche Dovizioso sembra avere forse un qualcosina in più. Diciamo che Dovizioso e Vignales sembrano destinati a giocarsi nella seconda parte del gruppo, senza dimenticare Pedrosa che è settimo e come passo non è lontano dai due piloti che ho detto prima, Dovizioso e Vignales. Molto molto bene Niccolò Bulga in moto 3, prima position alla quinta gara della sua vita in moto 3. Bravissimo Niccolò a 16 anni, sembra essere un predestinato, ma vanno forti anche gli altri piloti italiani, ne abbiamo tre in seconda fila, Fenati partirà nono e anche in moto 2, attenzione perché Morbidelli, Baldassari e Corsi sono lì, Sam Lowe, Sam Paul, ma gli italiani vanno forti anche in moto 2, domani diretta su moto.it, ciao a tutti.